In eccellenza, undicesimo turno di campionato agevole per il Giarre, che in un regionale tornato a porte chiuse, sommerge sotto una valanga di reti un bel passo imbottito di Juniores. 7-0 il punteggio finale, con i giallobluchi raggiungono così quota 18 punti in classifica, a una sola lunghezza di distanza dal quinto posto, ultimo, disponibile per disputare i play-off. Dopo due sconfitte di fila, Mister Fichiera ripropone il classico 4-4-1-1, con Nirelli in appoggio ad Aleo in avanti, sostituendo in difesa l'infortunato Patanè con Di Benedetto. La valaga gialloblu comincia al quindicesimo con Aleo, che raddoppia dieci minuti dopo con un gran destro dal limite. Il tris di Aleo arriva alla mezz'ora, mentre al quarantesimo c'è gloria anche per Dumitrascu, bravo a ribadire in rete la respinta del portiere. Il 5-0 è firmato da Nirelli su assist del sempre presente Aleo. Nella ripresa i ritmi si abbassano e Aleo sigla il suo personalissimo poker al 61esimo. A 5 minuti dal termine c'è anche il sigillo di Cavallaro, per una gara che ha nel frattempo sofferto una breve interruzione per la pioggia insistente. La Cereale lotta contro un campo ai limite dell'impraticabilità e con la sfortuna dei due legni colpiti da Piuca e da Gosta, ma non va oltre lo 0-0 interno con un pedale a San Pio X come sempre ben disposto in campo e ordinato tatticamente. Al Tuparello sotto una pioggia battente, gli ospiti si fanno preferire nel corso della prima frazione, con le occasioni di Baglione e Cortese. Nella ripresa cambia tutto, l'arbitro interrompe l'incontro per una decina di minuti e al rientro è la Cereale ad avere le occasioni migliori. I due legni colpiti, la rete annullata per il mani di Cocimano, uniti alla superiorità numerica per il rosso estratto a Baglione e il grande intervento di Romano Suttosto lasciano spazio a recriminazioni. La Cereale prosegue comunque nella sua striscia di imbattibilità, confermandosi secondo alle spalle del città di Sant'Agata.